DIPS è una startup innovativa e società di benefit con un particolare focus sulla corporate education e sulla formazione professionale. Nello specifico ci occupiamo da un lato di assistere a coloro che creano i contenuti formativi, nello specifico i docenti e le scuole, le università o i vari enti formativi, a tutte quelle attività rivolte alla programmazione, pianificazione, creazione, condivisione e promozione di quelli che sono i loro contenuti ed esperienze didattiche nel mercato della formazione. DIPS è un progetto, una visione, che vuole un po' rivoluzionare la formazione, renderla accessibile anche a persone, a lavoratori che vengano da diversi ambiti, fornirgli possiamo dire un quadro olistico, quindi di competenze nel mondo dell'innovazione digitale, ma anche di etica dell'innovazione, filosofia dell'innovazione, giusto per creare delle competenze trasversali oltre che verticali. Come nasce l'idea di DIPS? DIPS nasce in un contesto di continua ricerca, di portare l'innovazione all'interno delle aziende. Nello specifico ci occupiamo di sviluppare tutti quelli che sono i canali, gli strumenti, le tecnologie, sia fisiche che digitali, per poter svolgere tutte quelle che sono le attività propedeutiche e di vantaggio, di valore per quella che è la formazione. Quindi con tutto quello che è la costruzione di aule per la formazione in ambito 4.0, con anche laboratori pratici, o per lo sviluppo di esperienze didattiche che possono essere vissute attraverso le moderne tecnologie. Tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale, ma anche lo stesso metaverso.